Musica Ben trovati ad una nuova puntata di Paese che vai. Questa settimana ci troviamo in Alta Valla Brembana, circa 50 km da Bergamo, rinomata meta turistica sia nella stagione primaverile, estiva che invernale. Branzi, è questo il Paese dove ci troviamo in questo momento, ha davvero tantissimo da offrire. Il nostro sarà un viaggio alla scoperta e alla riscoperta dei luoghi, della gente, della tradizione e faremo anche un salto in quella che è la natura incontaminata proprio di questo bellissimo Paese di montagna. Grazie a tutti. Ed ora vi porteremo in quella che è la bellezza proprio dei boschi, quando i boschi diventano foreste. Per l'occasione abbiamo invitato un ospite speciale, ma è tardi, dove sarà finito? Io non lo so, ogni volta che diamo un orario lui arriva sempre in ritardo, perché adora perdersi e osservare gli animali che lo circondano e poi si dimentica degli appuntamenti. Chi sarà mai? Finalmente è arrivato e se ne sta già andando. Baldovino Midali dove vai che già siamo in ritardo, dobbiamo portare i nostri telespettatori alla scoperta delle bellezze naturali e tu come sempre, cosa hai trovato questa volta? Questa volta ho trovato l'edificazione del Picchio Nero, visto che abbiamo qua anche il cartello che lo richiama e su questo bellissimo sentiero che purtroppo era abbandonato e la Proloco l'ha ripristinato. L'ha ripristinato, è un bel sentiero, un bel percorso dove percorre tutto il paese, dove siamo tra prato e bosco e qua si possono avvistare molti animali e ogni posto la Proloco ha fatto fare dei pannelli, con tra l'altro le mie foto, che raffigurano un po' gli animali che ci sono qua. Ecco perché tantissime persone ti conoscono, ormai fai parte della famiglia, delle loro famiglie e entri con umiltà, con delicatezza, con la passione, con il cuore presenti quello che è la natura, giustamente alterni, quella che è la tua passione, quindi fotografo, naturalista, con un'altra attività che poi avremo modo di svelare. Adesso parliamo proprio ancora un'ulteriore volta di questa tua passione per la fotografia, questo lato naturale. Sì, è 30 anni ormai che vado per i boschi a fare fotografie filmate, ma quel sentiero qua che hanno fatto è proprio una mia soddisfazione personale, perché facendo una cosa così, proprio a Branzi, dove io trovavo questi sentieri mal di fuori del mio paese e magari o con una mia idea o comunque con idee della Proloco sono riusciti a fare un percorso anche qua a Branzi come li vedevo in Svizzera, come li vedevo anche in altri posti. E poi possiamo dirlo tranquillamente che hai anche realizzato un altro sogno insieme a un altro personaggio particolarmente conosciuto della televisione italiana in cui si parla di Mela Verde. Sì, sì, l'ultimo mio documentario appunto ha partecipato come voce narrante da Arturo Spelli, che ho avuto molto piacere che lui, anche lui, mi ha aiutato. Nel mio hobby vengo aiutato da più persone, cioè non sarei, non avrei fatto tutto questo se in giro a me non ci fossero tante persone volonterose che mi aiutano, mi prendono per mano. Come te, Leonora, adesso che mi stai facendo un'intervista che io non sono proprio così bravo a farmi intervistare e ho il piacere comunque di vedere, di conoscere persone che mi aiutano e mi hanno sempre aiutato. Che riescono comunque anche magari ad, parliamo dei professionisti del settore, a darti qualche spunto in più, però sappiamo che anche con i turisti che vengono a Voranzi tu riesci a instaurare proprio un rapporto di amicizia particolare e li accompagni proprio alla scoperta dei vostri luoghi, quindi la capacità anche di raccontare e poi di vivere direttamente proprio queste bellezze. Esatto, vedere un animale in fotografia non è comunque come vederlo in natura, insomma, bisogna andare in giro ad agio ad agio, non far rumore, cercare di non calpestare i ramoscelli e cercare proprio di osservare, di andare ad agio, perché di solito uno che va in montagna corre sempre per arrivare in vetta, invece no, io faccio l'incontrario, vado ad agio ad agio e osservo, mi fermo, ascolto, perché il bosco ha tanto da insegnarci, basta guardarci in giro che vedi comunque se è passato un capriolo, se si sente comunque il rumore di un uccello che canta per allarme oppure che è in nido, cioè se tu in silenzio sei nel bosco, ascolti tante cose che io voglio anche insegnare a tutta la gente che lo vuole fare. Anche perché è proprio il viaggio, come dici tu, il modo in cui si affronta il sentiero che porta alla meta che fa la differenza. Sì, assolutamente sì, bisogna proprio fare attenzione e osservare, osservare proprio tutto quello che ti circonda, ma soprattutto ascoltare. Panificio Midali, da sempre attento alle qualità delle farine, seleziona materie prime di alta qualità e da oggi fa parte del progetto Integral Bianco e usa solo ed esclusivamente farine Integral Bianco. Integral Bianco è la risposta alla crescente necessità di curare la propria salute attraverso un'alimentazione corretta. Panificio Midali, a Branzi, in via San Rocco 18 e sul sito www.panificiomidali.com Il nostro viaggio prosegue e rincontriamo nuovamente Baldovino. Midali, in questo caso in una nuova veste si parla di sapori e salute, quella che poi è la vostra attività di famiglia, una tradizione che continua. Sì, esatto. Il nostro panificio è sempre stato attento alle materie prime. Difatti abbiamo sempre usato farine senza aggiunta di glutine oppure OGM free e abbiamo puntato proprio tutto sulla qualità. In questo periodo c'è stata una grossa opportunità di cambiare tipo di farine proprio, di andare sul cambiamento totale di tutta la farina della materia prima che usiamo e questo ci ha portato un bel miglioramento, insomma. Bello perché si rimane legati alla tradizione, chiaramente, però si guarda anche al futuro. Con questa innovazione, questa voglia di cambiamento si parla di Integral Bianco. Sì, in sostanza è una farina che ci sono stati degli studi tra Molino Farvello e Molino Colombo con due università e sono riusciti a fare una farina togliendo solo la parte legnosa del grano che poi lo spiegherà bene dopo il dottore Ottolina. Ed eccoci con il dottor Andrea Ottolina. Molino Colombo, una storia che fonda le proprie radici nel lontano? Beh, siamo ai fini dell'Ottocento. Il nostro Molino è stato il primo che è stato azionato dall'energia elettrica in Italia e la nostra azienda è un'azienda che ha sempre cercato di coniugare la tradizione con l'innovazione tecnologica e Integral Bianco rappresenta da questo punto di vista direi proprio la punta dell'iceberg della nostra ricerca perché questo è un prodotto veramente innovativo per il nostro settore e per il settore della panificazione in generale. Sicuramente il lavoro, voi siete alla quarta generazione, è cambiato parecchio. Sì, direi di sì. Diciamo che siamo alla quarta generazione, abbiamo un reparto di ricerca che sviluppo, come stavo dicendo, molto molto ben strutturato e questo ci ha portato a trovare questo prodotto che, ripeto, rappresenta davvero un'innovazione incredibile per il campo dei prodotti da forno in generale. Nel concreto, quali sono i benefici? Ma allora, Integral Bianco è una farina che ha dei benefici superiori alle farine integrale ma ha la bontà e la leggerezza del pane bianco. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo eliminato praticamente la fibra insolubile, quindi la parte marroncina del chicco di grano, quella che dà fastidio, diciamo, alla lievitazione del pane, che rende il pane un pochettino più pesante, se vogliamo, più amarognolo da mangiare e abbiamo rinserito la fibra solubile. La fibra solubile è la parte davvero nobile dal punto di vista salutistico-nutrizionale e praticamente contribuisce a creare un filtro per il quale c'è l'assorbimento, un ridotto assorbimento dei grassi e degli zuccheri del sangue. Quindi abbiamo un ridotto impatto glicemico, addirittura del 50% rispetto alle farine raffinate. Questo naturalmente per il mondo medico-scientifico che sta affrontando questo tipo di problema è estremamente importante perché diventa un grandissimo aiuto. E per rimanere aggiornati, saperne di più, contattarvi, sito internet? Sito internet, sito internet www.integrabianco.it o www.molinocolombo.it Amore, passione e poi davvero tanti e numerosi tipologie e soprattutto vediamo qui che si va dai quadrati all'antico, i farinelli, tanti tipi di pane un po' per tutti i gusti. Sì, tanti tipi di pane anche perché io proprio ho scelto anche di fare tipologie di pane diversi, con lievitazioni diverse. Abbiamo ad esempio la tartaruga dove il lievito fermenta ben 24 ore a 20 gradi oppure abbiamo pane antico senza l'uso del lievito e tanti che sono intolleranti al lievito mangiano questo pane e comunque sta bene. E poi vediamo Fucacci, insomma si lavora davvero parecchio, dicevamo a contatto con moglie e figli, questa tradizione che prosegue sempre all'insegna della bontà, del benessere e della biodisponibilità. Sì, difatti vengo aiutato moltissimo da mio figlio, mia moglie e anche quando ho qualcosa da fotografare e filmare in giro io scappo e stanno qua loro.